Il Z5 Papa Ianchi Uniform, zona 9, precisamente mi trovo in questo momento tra Capo d'Orlando e Naso, sto percorrendo la statale in direzione Naso, anche qua ci sono tante persone fuori dalle abitazioni, logicamente c'è timore perché poi visto la conformazione del territorio è normale che ci sia anche un certo allarme, ti do il cambio, il Z5 Papa Ianchi Uniform, barato 9. Ripeto, qua non ci sono danni, solo paura. A te, Salvatore, vediamo cosa segnali tu da lì. Grazie. 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 Grazie a tutti. ritello c'è solo stato un po di paura non ci sono danni va bene io rimango in ascolto rilancio per l'amico della zona 5 non ricordo bene il nominativo la parte mia qua rimango in ascolto vorrei fare un giro in moto per vedere in paese quello che c'è dopo di che rimano attacco ci sentiamo fra poco casomai t9 con giulette con guerra e biavanti l'amico della zona 5 se può riprendere se non sono in ascolto bene un saluto allora ecco giuliette ecco i z5 papa e anche uniforma barrato 9 e anche barrato mobile a questo punto perché mi trovo mi trovo in macchina e adesso sono quasi arrivato a casa e anche io rimango in ascolto faccio un controllino e semmai riprendo più tardi con la buonasera e piacere di avervi sentito grazie mille grazie mille